Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale in genere horror. È disponibile da poco su Disney Plus Clock, film del 2023 diretto da Alexis Jacknell. Il film narra la storia di Ella, che è una giovane donna in carriera, nel senso che è un'apprezzata, un'apprezzatissima aridatrice di interni, è sposata ma ha deciso per ora, perlomeno, di non avere figli. Dice infatti di non sentire che ancora il suo orologio biologico le stia trasmettendo la voglia di diventare madre. Attorno a lei ci sono amiche che pressano, che cercano di convincerla invece ad avere dei figli e soprattutto un padre che vorrebbe fortemente che sua figlia gli desse un nipote, soprattutto per continuare la dinastia. padre e la famiglia appunto della protagonista che sono di origine ebrea e che soprattutto il padre fa sentire molto quello che è il peso della storia, quello che è successo di drammatico durante il periodo ad esempio dell'Olocausto, quello che hanno dovuto subire come storia gli ebrei e quanto sarebbe doloroso per lui contribuire a quella che è la non continuazione di una dinastia per un popolo che ha subito tanti soprusi nel passato. Quindi la pressione delle amiche, la pressione del padre, mentre sembra che il marito invece di ella sia dalla sua parte. Per cercare di venire fuori da questa situazione anche di stress psicologico, di pressione mentale che le fanno le persone che le sono accanto, decide di andare dal medico di base, una donna, la quale consiglia, la quale torna sul concetto dell'orologio biologico, del fatto che il suo orologio biologico sia rotto e che debba essere sistemato o riparato. Questo concetto qui sarà poi alla base del film. Viene consigliata quindi a ella di andare, su base volontaria ovviamente, di andare in un centro medico sperimentale diretto anche qui da una donna che è proprio specializzato nella riparazione, perché si utilizza il termine di riparazione dell'orologio biologico rotto. Quindi per avere sostanzialmente la voglia di diventare madre, non quella di essere costretta solo perché tutti attorno te lo dicono. Questa è un po' la storia e da qui poi cominciano i problemi perché dopo la fine, alla fine di questo ciclo di terapie sperimentali con medicine e con sedute con il medico, con la dottoressa, la nostra protagonista se ne torna a casa ma comincerà a avere dei seri problemi mentali che sfociano in incubi ad occhi aperti, con presenze, con visioni anche mostruose e una situazione psicologica che diventa sempre più difficile. Questa è la storia di base di un film che parte come un thriller psicologico che sfocia nell'horror e quasi sfocia anche nel body horror. Poi vedremo tutte queste componenti come vengono trattate. Le tematiche ci sono e sono importanti perché si parte principalmente dalla pressione psicologica sulle donne a fare figli, quelle donne che invece avrebbero deciso in un periodo della loro vita o completamente avrebbero deciso invece di non averne. La donna intesa è descritta come procreatrice, solamente fatta per fare figli. Questo concetto viene ribattito anche dai medici stessi, quello di base è la direttrice del centro medico sperimentale. Quindi le donne stesse, anche le amiche, dicono questo ad ella. Lo fa il padre, questa pressione l'attua, il padre che appunto ebreo porta avanti anche motivi storici legati ai soprusi subiti dalla famiglia, dagli antenati in genere. delle amiche l'abbiamo detto, il marito sembra appoggiare la scelta della moglie e questo orologio rotto è un concetto che torna spesso nel film quasi a considerare la donna sia procreatrice, quindi solo per fare figli, e al tempo stesso una donna, diciamo, da correggere, sbagliata, quella che sceglie solamente il lavoro o comunque, non perché scelga solamente il lavoro, ma scelga semplicemente di non essere madre, che tra l'altro la protagonista dice che in teoria è una scelta temporanea, cioè non si sente ancora pronta, ma le fanno pressione e le mettono fretta. Diciamo che non c'è nemmeno la solidarietà femminile, le donne stesse premono perché ella abbia un figlio. Ci sono gli elementi horror, che dicevo, perché vanno ad arricchire quello che è principalmente, di base, un thriller psicologico. Elementi horror che sfociano anche nel body horror, che forse è in elementi mostruosi, perché vedremo chi ha visto il film sa di che cosa parlo, e che dovrebbero arricchire il film, visto che l'espediente horror viene utilizzato per parlare della tematica centrale del film, di cui ho appena accennato. Però, diciamo che forse la parte che funziona di più è proprio quella del thriller psicologico, mentre le componenti horror, anche quella del body horror, forse sono un po' forzate, forse sono meno incisive, anche se di base avrebbero potuto essere molto efficaci nell'arricchirlo, nell'arricchirlo il film. Quello che succederà alla nostra protagonista, non voglio dirlo, non voglio andare oltre su quello che le succederà, perché appunto qui si va su una parte spoiler. Quindi mi limito per ora a dire che il film porta avanti una tematica importante, quella della scelta della donna e dell'imposizione che gli viene data nel dover essere per forza solamente una persona che fa figli, tanto che la direttrice stessa del centro sperimentale dice a Ella che lei è un essere umano speciale, perché? Proprio perché è donna, proprio perché è quella che mette alla luce i figli. Però viene incanalata come solo per fare figli, è un concetto che viene molto rimarcato. In un film che ha la componente thriller molto efficace, la parte psicologica abbastanza, diciamo che gli elementi horror funzionano un po' meno, soprattutto perché a un certo punto il film a livello registico e di sceneggiatura è un po' fiacco nella parte centrale, nella tre quarti, proprio perché queste componenti che vengono ad arricchire il film in qualche punto scriccolano un pochino. Di base rimane un film, secondo me, riuscito nel portare avanti queste tematiche e da un punto di vista tecnico, stilistico, rimane anche abbastanza riuscito e da vedere. Diciamo che l'ho visto una sola volta e questa è l'impressione che mi ha dato. Tornate a vedere il video, se il film non l'avete ancora visto, quindi Disney+, piattaforma streaming per Clock di Alexis Jacknow. E adesso posso parlare liberamente degli aspetti spoiler perché ci sono altri elementi che vengono approfonditi e che però diventano spoiler per chi il film non ha ancora visto. Quindi, attenzione, parte spoiler che inizia adesso. Allora, che cosa succede alla nostra protagonista? Sappiamo benissimo che a un certo punto si trova davanti a una pressione talmente forte e anche il marito stesso è complice perché dimostra anche lui di essere complice del fatto che anche lei debba andare a riparare questo orologio biologico. Ci sono altri elementi che vanno ad arricchire un po' questi concetti. Si parla, ad esempio, dell'orologio a pendolo, tanto caro al padre, che la nostra protagonista vuole distruggere, infastidita da questo ticchettio, che ripropone il concetto dell'orologio biologico di un qualcosa che invece di essere qualcosa di naturale da ascoltare viene considerato rotto e quindi da riparare. Quindi per lei è un qualcosa che preme mentalmente e il ticchettio dell'orologio a pendolo diventa il simbolo anche di un qualcosa di stressante che deve essere eliminato. Per eliminarlo lei si scaglia fisicamente contro questo orologio, lo distrugge, ma in realtà purtroppo scopriamo che lei si accanisce in realtà contro il padre uccidendolo in maniera violenta. C'è l'elemento anche della donna mostruosa, quello è un po' meno chiaro in realtà, questo elemento horror che si rialaccia un po' alle mode del momento, questa creatura mostruosa abbastanza efficace a livello di componente horror all'interno del film, forse un po' meno efficace nell'approfondire certi elementi e certi concetti del film, però diciamo che viene quasi spiegato dicendo che è un riferimento mentale e una trasposizione mentale, un riflesso che la nostra protagonista fa della nonna che sarebbe alta e magra perché raffigura un po' quella che è la nonna malnutrita, vittima dei campi di concentramento e anche questo concetto viene continuamente riproposto. Un concetto che è una riproposizione, un concetto storico che è un espediente che può essere utilizzato, che può fare leva per approfondire certe tematiche ma che forse anche qui probabilmente non del tutto viene sfruttato. Si va verso, con questi elementi, con questi simboli, con queste situazioni anche da body horror che anche qui vanno a spiegare un po' quello che è il dramma che sta subendo alla nostra protagonista e quindi visivamente ci fa vedere quello che può essere il trauma per un parto e per l'avvicinamento a un parto che in questo momento per la nostra protagonista diventa un ostacolo, un qualcosa che le fa paura, che le crea un blocco per cui ancora non si sente pronta per essere madre. E si va verso il finale che ha come sbocco, come unica soluzione, il suicidio che diventa l'unico rimedio per la nostra protagonista per liberarsi. È simbolico anche il fatto, ed è esemplificativo, il fatto che lei si suicida quando è stata arrestata, gli hanno messo le manette, lei si butta dalla rupe e quando noi la vediamo risvegliarsi simbolicamente la vediamo senza manette. Un po' a voler dire finalmente ha trovato la libertà ma l'ha trovata nel peggiore dei modi solamente suicidandosi e non trovando solidarietà e comprensione nelle persone che le erano vicine e questo momento in cui lei apre gli occhi simbolicamente e senza manette la vediamo accorgersi di questo momento quasi poetico e sentimentalmente molto profondo che è il racconto che le faceva anche il padre di questo anfibio che esce dall'acqua e che per la prima volta nell'inizio dell'evoluzione per l'essere umano, poi successivamente per l'essere umano, per la prima volta questa creatura acquatica mette piede, fa i primi passi, muove i primi passi sulla terra, comincia a difendere i suoi piccoli e comincia ad abituarsi a un nuovo ambiente a rimarcare quelle che sono state ancora una volta le difficoltà degli antenati della famiglia di Ella per un periodo storico molto molto difficile per loro ma anche appunto la riproposizione, questa immagine quasi poetica, appunto molto sentimentale di questo piccolo animale acquatico che comincia a prendere piede, che comincia a mettere piede sulla terra e quindi l'inizio dell'evoluzione della specie, la difesa della stessa e tutti elementi molto cari al padre che lei però ha distrutto diciamo sfogandosi e purtroppo uccidendolo. Un suicidio che è una soluzione non soluzione perché porta alla fine della storia in maniera drammatica e che si riallaccia a quella che è stato invece il prologo del film dove vediamo l'immagine di una donna che utilizza una catena di un'altarena per impiccarsi e probabilmente quella donna ha gli stessi, ha avuto gli stessi problemi che ha subito, che ha avuto la nostra protagonista, quindi stesso epilogo in un qualcosa che non è solo della nostra protagonista, quindi non è un problema suo, non è lei sbagliata ma probabilmente sbagliate sono le persone che impongono e che pressano psicologicamente, tormentano e violentano psicologicamente quelle persone, quelle donne che vogliono avere anche la libertà di poter scegliere. La maternità è una cosa meravigliosa e viene anche esplicitamente detto comunque durante il film ma non deve essere, non può essere un'imposizione perché una donna e una persona in quel momento potrebbe avere anche non sentirsi pronta ma al tempo stesso non può essere considerata sbagliata, malata o da riparare ancora peggio come fosse proprio un oggetto, un qualcosa che deve mettere al mondo i figli. Sono concetti che vengono ribaditi e approfonditi nel film, magari ci sono momenti in cui viene fatto, il tutto viene realizzato nella maniera più riuscita, alcuni momenti meno perché quando citavo il discorso degli elementi, dei generi utilizzati per portare avanti questo argomento la parte thriller psicologica io l'ho vista funzionare un po' meglio di quello che è l'aspetto horror che benché abbia nella figura della donna alta e magra un qualcosa di terrificante e di horrorifico efficace di per sé, forse appunto non arricchisce troppo quello che è il concetto che si vuole utilizzare. Sono elementi horror che volutamente sono stati utilizzati in fase di regia e di scrittura proprio per dare spessore in più, per utilizzare il genere horror per comunicare un qualcosa di importante. Diciamo che il film avrebbe funzionato anche senza questi elementi horror che alle volte sembrano messi lì un po' forzati ma al tempo stesso però comunque danno uno spessore, danno un qualcosa in più anche a livello visivo. diciamo che siamo un po' a metà tra il riuscito e il non riuscito nell'utilizzare tutti questi elementi. Il riuscito invece è l'approfondimento di un tema importante anche se si poteva sfruttare forse un po' meglio il concetto del padre che ha questa, che pressa la figlia più per problemi, per motivi storici, per un rettaggio storico e per gli incubi del passato più che nel voler tormentare la figlia per volere un nipote. È qualcosa di legato di più alla prosecuzione della dinastia, della famiglia e non nel voler invece considerare la donna come un oggetto che procrea e basta e mette al mondo i figli. Mentre le donne che stanno attorno alla nostra protagonista vedono, non danno la giusta solidarietà e il giusto spessore invece a quello che la donna dovrebbe essere, cioè non solo una madre ma anche madre, anche lavoratrice, anche una persona che ha alcuni momenti della vita in cui può desiderare una cosa oppure può desiderarne un'altra. Il concetto dell'orologio biologico come abbiamo già detto è alla base un po' di tutto il film, il titolo stesso è Clock e il simbolismo anche legato all'orologio a pendolo del padre può star a figurare anche quello che diventa lo sfogo sbagliato poi della figlia che invece di distruggere questo orologio a pendolo va a colpire il padre, quindi la voglia, questa pressione che viene data alla donna di andare da un medico, medico di base, donna che consiglia di andare a un centro sperimentale non fa altro che creare danni, addirittura fare in modo che la nostra protagonista impazzisca al punto tale da sfogarsi sul padre invece di distruggere un elemento che è quello dell'orologio a pendolo che dovrebbe rappresentare il ticchettio che le dà fastidio di questo orologio biologico. Io ci ho visto questo un po' come il messaggio del film fino a un finale che è quello dell'anfibio che esce dall'acqua che è più sentimentale, poetico e che richiama un po' il concetto della storia raccontata dal padre alla figlia Ella e però immagini, simboli, tematiche ce ne sono più o meno riuscite, più o meno approfondite per un film che vale comunque la pena essere visto perché ce ne può discutere quindi lasciatemi anche un commento su quello che pensate del film, se siete arrivati fino a questo punto del video lo avete visto quindi potete commentare, attenzione gli spoiler perché tanti devono ancora vederlo, è appena uscito quindi commentiamo sempre stando attenti agli spoiler o comunque specificando che si sta facendo spoiler. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e ci vediamo alla prossima.